ruzzare dai ma cos'è sto? ma non mi posso appoggiare e vabbè è letteralmente esploso oh ma non ce la faccio oggi minchia ma che è oggi? oh non lo so adesso lo facciamo non facciamo nulla se mi cadono cos'è? i fuochi d'artificio alle 3.18 di notte non ci vuoi io credere non ci vuoi io credere non ci vuoi guardate ok ho preso un colpo siete pronti? perché passa suono? ok 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 bene grazie le abbiamo lavati per bene Perfetto Oddio ma cos'è sta puzza di bruciato? Si è spenta la candela Va bene, non importa, non è che si vede secondo me Perfetto